giorni speciali la storia del futuro va ricordata con emozione chi lo manifesta che sia a destra centro o sinistra sarà degno della massima condivisione il resto sono solo invidie da bassa quota nel sociale non degno di sana umiltà ma anziani l'ambito sogno pietro paolo quarta poeta naif salentino poterità grazie a tutti a 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 giorni speciali la storia del futuro va ricordata con emozioni chi lo manifesta che sia a destra centro-sinistra sarà degno della massima condivisione il resto sono solo invidia da bassa quota nel sociale non degne di sana umiltà mantieni l'ambito sogno Pietro Paolo IV Poeta Naif Salentino Godialità